Realizzazione di due ascensori sui due binari, lo spostamento della biletteria, il rafforzamento dei sostegni della galleria e la ricostruzione del prateatico della stazione che sarà sollevato rispetto al piano attuale, cambia il look della stazione ferroviaria di Sulmona. Vanno avanti i lavori di adeguamento che sono partiti nei giorni scorsi. Un cantiere che doveva essere inaugurato ufficialmente lo scorso 15 maggio come previsto dai termini di consegna, poi si è reso necessario il leggero rinvio, ma gli operai sono al lavoro dal momento che è stato chiuso il sottopassaggio e i passeggeri raggiungono il treno attraversando la pedana collocata sul binario 1. Un cantiere in movimento volto a migliorare l'accessibilità alla stazione, ma anche marciapieti e lo statico della pensilina. I lavori si sono resi disponibili grazie a una dotazione finanziaria pari a 300.000 euro. Stando a cronoprogramma dovrebbero concludersi per in mese di ottobre 2018, quando la stazione ferroviaria di Sulmona si presenterà in una veste nuova, tanto evocata dai passeggeri dei comitati, quasi al passo con i tempi.